Davide Cassani felicissimo, hai detto è la vittoria di tutti. È la vittoria di tutti, dei ragazzi, di noi tecnici, della Federazione Ciclistica, di tutti quelli che hanno lavorato per ottenere questo risultato, questa vittoria. E devo dire che sono veramente felice. Ci credevate da subito? Sì, ci abbiamo sempre creduto. Io sapevo di avere una grande squadra, anche perché questa vittoria non è nata in quest'ultima settimana, è nata cinque mesi fa, quando con Trentino e col Brelli abbiamo deciso. Siete d'accordo? Puntiamo gli europei mondiali? Mi hanno detto sì. E si sono fatti trovare i ponti. Quindi è una vittoria che è nata questa primavera. Tante lacrime poco fa, eh? Lacrime perché sono emozioni indescrivibili. E devo dire che momenti come questi mi danno l'unfigilità di essere una persona davvero felice. Dici sempre che questo è il lavoro che ami fare più bello del mondo. E mi pagano pure. Grazie.